Questa settimana qua ne abbiamo approfittato grazie allo stop dovuto a 6 nazioni, stiamo lavorando da un punto di vista più fisico. La settimana scorsa alcuni giocatori che hanno giocato di più hanno riposato, mentre altri che ne avevano più bisogno hanno lavorato fisicamente. Questa settimana è uguale, faremo anche Reparticlone l'Italia Under 20, quindi sarà un'occasione di lavoro per tutti. Sono state settimane di grande revisione tecnica dopo la partita non positiva contro l'Einster, stiamo lavorando molto i dettagli, lavorando molto su di noi, sappiamo che dobbiamo migliorare anche il drive e un po' anche il gioco di avanti. Manchester sarà una partita simile, quindi dovremo porre più attenzione con i nostri dettagli. Manchester a casa loro è una partita una delle più difficili, ci attenderà una grande prova come gruppo, anche un gruppo come contro Sharks e l'Einster privato da molti giocatori, per cui sarà una sfida per noi, sarà forse una delle partite più difficili. Molto simile all'Einster sotto certi punti di vista, però noi abbiamo avuto due settimane dove ci abbiamo lavorato e arriveremo pronti. Rientrare in campo dopo 13 mesi è stata per me una grande gioia, quasi una liberazione. Mi sono sentito come rinascere perché è stato comunque un percorso molto lungo, fatto da tantissimi alti e bassi che sicuramente hanno segnato in positivo anche la mia carriera perché penso che le prove difficili aiutino anche un po' ad andare avanti. Sono veramente molto contento, mi sento bene, ovviamente mi manca ancora tanto lavoro, ma sono pronto e voglio lavorare. Voglio sicuramente cercare di migliorare le mie condizioni fisiche perché dopo un anno mi manca sicuramente il ritmo partita. Ovviamente sto facendo un lavoro extra tutti i giorni anche con i preparatori per portare il mio livello a quello degli altri dopo un anno. Però sono molto contento di farlo e veramente è una gioia per me poter entrare nel gruppo. Grazie.